Oh c'è un tempo pure fino a domani ai 19 brutti paprilli eh, se non fixano la roba o esce qualche leak, tanto sicuramente 10 giocatori 83, oh aprilo questo che pazzo, Gabriele grazie per tre bentornato Sono le sfide di Zidane Olè Grazie per te, 19, bello e bentornato, vabbè ne è doppione, buono Io sono uscito tutti i todi, tutti i 11, sì, domani 12 Ne famo un altro, famosene un altro Perché trovai per tu che SBC ti fai? Grazie io, l'altra volta ho usato il 2.91 E ho trovato una donna molto bella con un carattere prorompente Ci frequentiamo spesso, vado a casa sua unica Lei ha una cantina con una vasta selezione di bambini Ci sta una bionda che è la mia preferita Oggi invece ho provato quella con i codini e i capelli castani L'ho sbracchiata tutta e gli ho fatto un po' male Urlava, ma a me è piaciuto Top up grazie per averla sponsorizzata Ah lo sai quanti mesi sono io? 19? Oh? Oh? Io ho meglio Mbappé o Ginola Ginola per me Io non mi ha dato i premi Rivals Boh, a me mi ha dato i premi duri Ma ha giocato, ha vinto almeno tre partite Rivals, sì Rodri, ma per carità Beh io ero le Viper, però Tuttano proprio tre pasti completi Sconto non è male Sono rimasto stupito di quanto ho pagato poco Sono proprio io, capo Oh, Harry Kane, ammazzi che culo Viper, non saranno Dodi, però Te fa un Bappe gratis Ma ti... Ah beh, Boni, questi li porta lì a casa Le mie icone, Peti, Shave, Shave, Shave Arrivo PM, come gli trovo un doppione a Viper, te venga Priliconcino Tanto penso che manca poco per trovargli un icona Trovargli un doppione Bappe-Bate sta tornando 800 Eh, grazie al cazzo Chi sto fa sto scemo verprozzato È forte Zambra A me piace un sacco Ma non è che è un errore È che secondo me Scadono davvero Badanno fatto aspettare dieci mesi Allora, apriamo pure un altro cinque giocatori Ottantaquattro più, va La canotta viola Oh, guarda che campione Il grande Bowen Ahio, com'è Douglas, porca Secondo me è ok Arto, grazie a Bizz Io ho droppa Dai, confidate Oh, Gersinio Air Prime Berbucio de culo Questo fa Marzuco, sì, capo A Bear Ice Dove dan culo Perché Dove lo mette più che altro Tanto me lo sento Vai per un toti Io lo troviamo 285 e più Mi piacciono Patata Grazie per i Bizz Ah È carina È simpatica Mi piace molto Quel pus Caio TVB Mesa la terza Icon Si attacca al cazzo Vabbè, ci sarebbe pure Grazie a Bizz Ben tornato Teosteg Pusca, so, trovo tu Eh, lo so Ma è bello, bello Questo che famo, signore? O mannamo su? Easy Petit Prime Com'è io? Ma non so Un grande amante Di Petit Sì, di Petit Anzi Mi sta proprio sul cazzo Però Se potrebbe utilizzare Germania Tonino Cruz Se metto Fofana Eh, per belle C'è un milione Bene, detto Chi devi Spare Oddio Se c'è un milione Il milione è proprio qua Cifra per il grande Davidone Eh, le vi abbe di pelette Metti C'è un milione Mmm C'è potrebbe Grande app Oh, bello questo Sì, aprimo Aprimo Sesto pacco Pazzo Ma sono tutti 81 più Capri Zambanghista Che ce fai Il pacco E sono tutti 81 più Ammazza Che cagata Però Portacci vostra Che merda E sto Lo tiro giù Eh, Sancio Sta come rice Che gli famo Oh Pacco 30 30 ter pass Quello era Eh, livello 30 Ter pass Porti un mese Che giochi Peppi a sta cazzata 10 giocatori 83 5 84 Vai Buonasera Bro Ah Ma che c'è dove 5 84 Riusciamo a trovare Qualcosa Oh, c'era 10 85 Avremo un altro 5 84 Non tanto 84 Un altro If Mamma mia It's Tra oggi e domani Domenica Il giorno Perfetto Questo era già Un po' meglio Domenica Antoria Un po' meglio È il giorno migliore Vabbè, questo è scambiabile Apri Vabbè, ma magari Tanto Antoria Tuvi volentieri Perché domenica C'è tutto Quindi se C'hai da la pazienza Di aspettare Domenica C'avete Tutto a disposizione 3 alti Mette 300k Pure Ma guarda Che tipito Ti trovi In zinco Rari Sti pacchi Così Beh, quanto odio Dovresti Odessi Io quando esce La menzione D'onore Domani Dovresti Via registrazione Misti Raro 84 Raro 88 2 85 10 85 5 giocati 10 83 3 attaccanti 83 più Vai Ciao Kaiba Io hai sentito Che c'è un allenatore Che allena solo Giocatori che tirano De Pia De Sinistro Se chiama Roberto Mancini Ah 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 Sambucone Molinari Pollo Grazie P32 Ben tornato Sono passati 32 mesi Eravamo da poco In lockdown E questa piaga Ancora deve andare via Una malattia Bruttissima Che inizia per Y Finisce per Osci 93 Fortuna Che tappa il naso E non permette L'imalazione Di infettore A tratti gorillesco De Sancio Oh Ruben Dias Dai A forte Un aiuto Vendo Pirlo Se vuoi Sì Dennis Grazie per i 5 Ben tornato Se vuoi Sì Sennò O giochi O può provare Vede come te trovi Mi piace per n Soprattutto quando E minorenne Ciao cara Di te Sanco 8 Peccato tu Non sia 2008 O no Mi avete scovato Per colpa Di una 2008 No Ora in galera Io sono le seghe Mi fa solo Una frutta Quanta aveva presi Allora 82 10 285 Vai No 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 Hanno fixato Regà Dura Fino a venerdì Prossimo Quello dopo Rivaldo Prime Scambiabile Lo zincro Degli incontri Ho capito Ah Buschezza Sarebbe da vende Vabbè Sì ma Viper Poi Ma poi Han cominciato A giocare Poco tempo Fa Viper Perché Ti ricordi Ha fatto Ma quest'anno Se può giocare Come è il gioco Era arrivato Tardi Dopo tutta La grande Pausa Estiva E tutto Quanto È arrivato C'è una squadra Da madonna Ha trovato Tutto Il gioco Questo Te tocco Usarlo Da qualche Parte Capo Perché Queste e Questo Sono Scambiabili Entrambi Queste Mi sono Trovato Bene Piaciute Però Io ho dovuto Cambiare Il coso Il gommino 1083 Se torna Con 1083 Beh Anche Puoi fare Punta Scamativo E Gini In chat Cliccare Sul Il mio Link Ma Come Patrick Schick Dar 1083 Io Meglio Salah 91 O Figo 90 Sul Next Oddio Figo Salah Sto Figo Come Sembra Veramente Un Prime Gaming Se lo Famo Un Prime Gaming Famo Se il Prime Gaming Vai Ah E' La Ripresa Non Scambiabile Che Cazzo Sto Ad Certo Ah E' Prime Gaming Con Cramaric Bale 93 Gersinio Vabbè Gersinio Raga Troppo Forte Cioè Bale E' Bello E' Poi 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 Fa Giocanziame Perché Comunque Bale Fa pure Terzino P Switch Fa Do Robbe Pazze Ma Se Picca Dai Però Nessun Doppione Io Adroto Oggi No Oggi Oggi Niente Tuti Per Ora Giocatore 84 Più Vai Ziech Da Magica Ho capito Matteo Randonne Bannato Non l'abbiamo Bannato Ma sai che è questo Solo da Mompeto Il grande Savage Eldo Shomull E' vicinissimo Al prestito Neroso Senza riscatto Con lo Spezia Ma Spezia gioca Titolare Shomull Ti posso Dire che Me lo Prendo Al Fanta Come Quinto Eldor Shomull Ti posso Dire che Eldor Me lo Prendo Proprio Al Fanta E beh Giocheranno In due Giocheranno Ah Enzo La fa Full Reparto Ho capito Gioca Da solo Con Pelè A parte 08 Per mese Ma ma che Gioca Una punta Giasi Insomma Regà Giasi Gioca Ritornerà Feste Ma Non Anzi 584 Eh Dipende Quanti Sandri Io Tra un Po Me la Squaglio Ma Poi Può Fare Pure A D Sì Lo So Però Mione 8 Mi Sembra Tanto Varanne È Tornato Bella Varane C'ho L'icon Ma È un attimo Ragazzi Ho finito I pacchi A Viper Poi Posso Fa Quello Che Volete Poi Per 6 8 E Mezza Però Penso Che Ci 3 Attaccanti Vai Dovai Devo Sappià Dopo Ma Non vado Da nessuna Parta Anghelone Vabbè Ciro Immobile Buono 1 8 De Faramos E Gersinio No No Ma Oh carina Mi è piaciuto Torino Stati bene Cdc Erodri Ma mi sa che è doppione A te la garba Un concu Doppione Dai Vabbè Dai Ok 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 Ma tip Se scarta Come al solito Smaicol pure Se scarta Bello Mi sa che gli apriamo pure l'icona Adesso Così Una l'apriamo adesso So pazzo Adesso tocca aprire un'icona Tocca aprire un'icona Quella e mezzo Una Due Tre Questa Qui Vabbè 92 Buttine Tram Bappé Modellamenti Tempesta Perfetta Nesta Ma Ti pare Che Back to Back Troppa Cioè tipo impossibile Che te l'apri così e non t'ha Impossibile Ma è Müller Prime Se può provare Pazienza Vabbè è Prime 94 è brutto Così mi arriva il galletto Lo mangio mentre guarda E quando finisco c'è il fatto Oh sì Ma è vero devo vedere la sto fase Ecco che devo fare Grazie per te bentornato Che poi amico mio Ma ha girato pure L'account di Naughty V Quindi cioè nel senso Muovito pure Bene Apri in 100k scambiabile va Vabbè Müller Dai ne è male vai Per 94 è Prime Sì No Ruben Dias Fico 92 insomma Per me l'unico buono è quello Quello con 5 de skill Ruben Dias Doppioni 83 82 Ah questi Toccherebbe venne Toccherebbe venne Sto Varane Scartà Questo e questo Vabbè questi li scartiamo E imbargono un cazzo Ma io ho io Vabbè 92 Manco ci stanno Che ci abbiamo qua Un ultimate Bello Apri me l'ultimate Dai Lasce sto Dodi Bowen Pure doppione sto scemo Bowen Se potrebbe pure mezzo Ma andrà a dormire A scartare Ma sta Cartimate brutto Vabbè io tiramo su Questo Famo 1.800 E questi Scartiamo Quando c'è Ad aprire oggi o domani No domenica Domani Perché secondo me Le menzioni Si potrebbero trovare Potrebbero essere C'erano delle carte di Cristo Più che altro Le Icon Tanto Sono 6-7 Quindi Chissenefrega Però sì Ovviamente Aspetterei domenica Però se Do scegli tra oggi e domani Farei domani Ah Bono Sule Ma a me 100k Sono orribili Comunque Veramente Brutti Ma sto Smychel Che drop C'ha Scusami Ma io io Vabbè 92 Manco ci stanno Che ci abbiamo qua Un ultimate Bello Apriamo l'ultimate Dai L'accesso Dodi Bowen Pure doppione Sto scemo Bowen Se potrebbe Pure mezzo Ma andrà a dormire A scartare Ma sta Cartimate Brutto Vabbè Io tiramo su Questo Famo 1.800 E questi Scartiamo Dovendo C'è Ad aprire Oggi O domani No domenica Domani Perché secondo me Le menzioni Si potrebbero Trovare Potrebbero Essere C'erano Delle carte Di Cristo Più che altro Le Icon Tanto Sono 6 7 Quindi Chi se ne frega Però sì Ovviamente Aspetterai Domenica Però se Do scegli tra Oggi E domani Farei domani Ah Bono Sule Ma a me 100k Sono Orribili Comunque Veramente brutti Ma sto Smychle Che drop C'ha Scusami E basta Cazzo Sto Smychle Su Siamo Tornati Con i Pachi Belli Con i Pachi Belli I Pachi 1080 Mamma Prima 10 85 C'ho Deve Tontoti C'ho Deve Mom Dai Mom Dai Oh Black 89 Di Balamo Trovato Prima Vabbè Buono Ok 10 85 Volem Aprire 10 80 Proprio Così No Grazie Per 29 Non Vedo L'ora Di Scannarmi All'asta Di Riparazione Per I Grandissimi Shomuro Dove Adolfo Gaic I Miei Due Attaccanti Preferiti Pe 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 Piacere Lo apriamo E' tutto Blu Lo apriamo Ed è Tutto Blu Ege E' una bella Domanda Lo sai Guarda Almeno Certo Li Mortacci Tu hai Un'animazione Con questo Davanti Ma la potevi Da Un'animazione Davanti Ma la potevi Da Almeno Facevi Ambedi Bello Ho trovato Magelele Avevamo Trovato Peddaero Ma l'avevamo Trovato Col Cazzo Perché Almeno Un'animazione Figa Con tutta La cosa Che sciva Davanti Torreira 85 Ho capito Ma poi Torreira Oh Mica Dici Vabbè Guarda Magelele Ti posso Dì Che poi Secondo me Su 4 Secondo me E' pure Una mezza Mina Parcato Che è un Certilo Perché Per essa E' pure Simpatico E dici C 85 Vabbè Dai Pure Bello Bello Insomma Tutti 85 Vabbè Magelele Moments Vabbè Vabbè